salve da michele expert mi trovo in sila sono nella parte sopra a longobucco diciamo nella direzione diciamo così della croce del fagito ma dall'altra parte ecco sono intorno a 1200 metri in questo momento però sto apprezzando il territorio tratta un bellissimo paesaggio veramente molto molto bello qua in santa pace ecco un silenzio c'è anche qualcuno in giro chiaramente oggi è domenica però mi sono soffermato qualcuno dice l'attenzione che ancora i funghi questa settimana li stanno trovando marci perché deve aspettare la prossima crescita ecco però io volto crederci un po tra l'altro raccolto quasi 20 kg di castagno stamattina mi sono fatto una bella scorta c'erano tante le schiacciavano le macchie dico ne ho approfittato parecchio stamattina c'è pieno di castagne giù che le macchine si passano sopra quindi un momento che si possono raccogli sulla strada è possibile è possibile anche in svizzera figuriamoci non sarebbe possibile in calabria allora vediamo un po vedete questo nei rositos o meglio chiamate pinicoli l'actario delizio delizio vedete come sono questo qua forse lo devo valutare vediamo quella qualcuno girono marci però effettivamente non tutti quanti sono integri speriamo di trovare qualcuno più tenero basta vedere questa qualità si si fa molto in queste piantine dove c'è ginestre ecco ovviamente non sempre capita ma questi sono i punti migliori perché c'è anche più sole quindi trovano sole trovano quello di zero comunque tanto i pini sono nei paraggi e quindi hanno tutto quello che serve se sto cercando di valutare un po meglio ma guardate quel punto al momento tra tre sono integri uno era marcio un altro c'è quella patina che non va bene sarà qualcosa che non va bene lo dobbiamo poi togliere e qua dentro c'è un altro vedete ecco anche questo se ci fate caso in marcio quindi siamo sicuri che questa crescita non è al massimo vediamo da questa parte peccati erano bellissimi anche queste marci ho già fatto io adesso faccio un giro largo poi vedo forse qualche mazza di tamburo sarà ovviamente più integra si mantengono di più i rositos o meglio chiamate pinicoli da noi l'actarios delisius hanno questa caratteristica che tendono a guastarsi in maniera molto veloce